Era nell'area da tempo, ma ora è ufficiale. Mirko Ceci, attuale sindaco di Pietralunga, si ricandida alla poltrona di primo cittadino. L'ufficialità è arrivata nella mattinata di venerdì, a seguito di una sua nota, dove parla di una meditata e approfondita riflessione necessaria a verificare la sostenibilità familiare e professionale da una parte e le condizioni politiche dall'altra. È stata una riflessione lunga e meditata, perché in ogni caso ero già al terzo mandato, poi si è aperta questa possibilità normativa. In questi mesi ho avuto diverse sollecitudini affinché dassi la disponibilità a un'ulteriore ricandidatura, innanzitutto dal mio partito di appartenenza, poi da altre forze politiche, ma soprattutto da molti cittadini trasversalmente che mi hanno gesto di mettermi a disposizione. Come dicevo nel mio comunicato, la riflessione è stata lunga perché in ogni caso fare il sindaco comporta sempre delle implicazioni che comportano sottrazione di tempo sia alla vita familiare sia a quella professionale. Dopo ampia valutazione ho sciolto la riserva e quindi siamo pronti per affrontare questa nuova campagna elettorale. Nei documento Ceci ha aggiunto che la sua candidatura è aperta ad abbracciare tutti coloro che vorranno apportare un contributo, un'idea, al futuro del borgo. È una candidatura per portare a conclusione il lavoro effettuato dalla presente esperienza amministrativa, con l'ambizione di migliorarsi e di innalzare così l'asticella degli obiettivi da raggiungere nell'esclusivo interesse della comunità locale, ha detto ancora Ceci. Ancora da capire chi saranno i competitors del primo cittadino. Non è da escludersi una lista più rentata verso sinistra ed una contrapposta più rentata verso il centro-destra.